Centro Autismo di Avellino, sinergia tra Comune e Asl per accelerare sull'apertura. Stamane vertice in prefettura per il prefetto Spena all'interesse primario e dare risposte ai più fragili quanto più rapidamente possibile. In particolare l'Asl si è impegnata a fornire un supporto in termini di consulenza ed effettuerà un sopralluogo presso la struttura entro la fine del mese. Dal canto suo l'amministrazione comunale, oltre a presentare la richiesta per l'autorizzazione all'esercizio delle attività, si è impegnata a risolvere la problematica relativa alla proprietà dei suoli. Per raggiungere questo traguardo, da un lato il Comune ovviamente risolverà la questione della proprietà del suolo e presenterà la richiesta di autorizzazione all'esercizio, dall'altro attraverso un'attività di collaborazione consulenziale da parte dell'Asl entro febbraio effettueremo un sopralluogo presso la struttura per verificare che ovviamente tutti i lavori siano stati effettuati a regola d'arte e quindi andiamo avanti senza problemi, confidando anche in tempi rapidi per l'ultimazione di questa fase e quindi per l'apertura del centro. E noi come azienda faremo attività consulenziale per aiutare tutto questo processo, quindi quando arriverà la richiesta della 7301, celermente daremo la risposta affinché si abbia subito il parere definitivo e poi successivamente noi abbiamo dato la disponibilità per le attività progettuali per l'autismo che abbiamo anche i fondi dedicati.